E allora per parlare di lavoro tra presente e futuro ci ha raggiunto qui in studio Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisler, tra l'altro oggi, anzi stamattina alle 10, siete convocati a Palazzo Chigi per parlare del decreto energia, questa volta possiamo dire prima del Consiglio dei Ministri è una cosa importante. Certamente, l'abbiamo chiesto ieri anche dal comizio dal parco di Assisi, dove abbiamo fatto questo primo maggio nel segno della pace del lavoro, molto positivo il fatto che il presidente Draghi abbia accolto l'occasione di discutere con le parti sociali di una situazione assolutamente non ordinaria che ha bisogno di coesione da parte di tutti. Peraltro appunto prima finalmente invece di andare a cose fatte, il tasso di disoccupazione che a febbraio è all'8,5%, quindi un buon dato, 850 mila nuovi occupati negli ultimi 13 mesi, peccato nel vero senso della parola che più della metà sono a termine, il record del 1977, aggiungo che in un mese a febbraio rispetto a gennaio si sono persi 109 mila contratti a tempo indeterminato. Allora, parto da lei, Benaglia, però come si spiega questa precarizzazione del lavoro e quanto è preoccupante o è inevitabile il futuro di lavoro? Dobbiamo mettercelo nella zucca, non può più essere il posto fisso. Il lavoro deve essere però stabile e ben tutelato, questa è la sostanza che valeva negli ultimi 20 anni e deve valere anche per i prossimi 20 anni. Siamo di fronte al fatto che nel 2021 ovviamente c'è stata una buona ripresa, il 2022 come ben sapete, soprattutto a causa dell'incertezza e dei costi dovuti alla guerra sta generando molte incertezze nelle imprese e ci troviamo però a vedere schizzare enormemente. Siamo oltre a 3 milioni e 200 mila lavoratori a termine, siamo sopra del 17%. La soluzione secondo noi è invece aiutare molto l'incentivazione delle trasformazioni dei contratti. Io ho molti lavoratori che dicono io voglio continuità lavorativa, voglio passare da un contratto all'altro. La cosa peggiore è lasciare un giovane a se stesso che quando finisce un contratto resta a casa e non sa cosa fare. Ma non ci dovrà essere il contratto a tutele crescenti che invece ha tutele calanti. Le vere tutele crescenti sono, mi lasci dire, fare la formazione mentre uno è in contratto a termine. Le imprese non investono in formazione per i giovani. Dobbiamo invece dire che se lavoro un anno in un'azienda, devo avere un mestiere, imparare di più e poter essere meglio occupato. Poi bisogna lavorare molto sulle trasformazioni, fare sì che sia incentivato e contrattato il fatto di passare a posto fisso. Eiman Sabah, buon lavoro, si potrebbe valutare anche in Italia, no? Assolutamente sì, tra l'altro noi della Fimcis... Migliora anche la produttività, ci dice la... È questo, siamo di fronte ad una stagione, nonostante le difficoltà prodotte dall'energia, dalla pandemia e dalla guerra. Siamo di fronte ad una stagione dove nel mondo del lavoro c'è un salto tecnologico, c'è un salto innovativo che permette di ottenere risultati con molto meno tempo. E quindi anche noi, proprio a Torino, due settimane fa come Fimcis, abbiamo lanciato l'idea che questo è il decennio nel quale dobbiamo ridurre gli orari. Già tra l'altro in paesi non solo come Islanda e Nuova Zelanda, che sono molto particolari, ma in California, nella Grande California, si stanno sperimentando situazioni di questo tipo. Lavorare quattro giorni su cinque, io dico non per forza dalla lunedì a giovedì e soprattutto dico che il quinto giorno potrebbe essere anche dedicato a due temi oggi molto importanti per i lavoratori. La conciliazione vita-lavoro, i carichi di cura, che sono sempre più decisivi e importanti, non solo verso i figli ma anche verso i genitori. Oppure la riqualificazione. Io conosco molti... Ovviamente oggi abbiamo un tema di salario, ne abbiamo appena parlato. Ma conosco molti metallomeccanici che cambiano lavoro certamente nelle aree del nord del paese, cercando un posto di lavoro non con 100 euro in più, ma che permetta di avere più tempo per sé. E' un tema su cui dobbiamo tornare a contattare. Questo è anche stato un cambiamento legato alla pandemia, ha messo delle gerarchie. Esatto. Ad avercelo il lavoro però. Certo, certo. Ovviamente però dobbiamo supportare molto con leggi di incentivo e con la contrattazione. L'autore, a parte il salto tecnologico, c'è un salto culturale che noi non riusciamo a fare purtroppo. Ci sono anche esperimenti tipo desigual, ricordo che l'ha fatto, con la deduzione dell'orario di lavoro ma anche del salario. Però i lavoratori sono d'accordo. Ha citato un esempio che stiamo discutendo molto anche nelle nostre riunioni. L'80% dei lavoratori hanno deciso di ridurre il salario non proporzionalmente, solamente del 6% a fronte del fatto che si lavora un giorno in meno a settimana. E libertà e vita è un tema che dobbiamo non imporre ma sicuramente mettere a centro delle relazioni industriali. Quindi intervenire sulle tasse sul lavoro. Benaglia, lei come lo vede il meccanismo? Aiutare solo chi alza gli stipendi? Le faccio questo esempio. Noi abbiamo uno stipendio di 1.500 euro oggi nette. Ha bisogno di 100 euro quest'anno per poter difendersi dell'inflazione. Questi 100 euro non possono andare solamente a carico delle imprese. Però bisogna, primo, rinnovare i contratti dove non sono ancora rinnovati. Abbiamo 7 milioni di lavoratori italiani che non solo non recuperano l'inflazione attuale, non recuperano nemmeno quella pregressa ed è una cosa subito che bisogna recuperare. Secondo, questi 100 euro in più in busta paga bisogna metterli con più forze. Il governo deve detassare, vanno fatti i contratti, secondo me vanno messi anche dei bonus in termini di welfare che sono delle cose che la gente apprezza tantissimo perché siamo in emergenza. Bisogna dare una risposta perché sono molto d'accordo in questo momento la coesione sociale è tutto. Fare un patto salariale, sedersi e non alzarsi finché non c'è un accordo è la cosa più importante. E i precari che fine fanno? Perché tutto questo va benissimo, bisogna aiutare anche loro. Allora, ci sono tanti problemi contemporanei. Non c'è una soluzione per tutti, c'è un tema salariale. Io però dico che il rischio della guerra, dobbiamo evitare che la guerra bruci i posti di lavoro. Questa è la prima cosa, perché il salario l'anno prossimo lo posso recuperare. Evitare di bruciare i posti di lavoro a partire da quelli che sono precari. Questa è l'altra grande necessità.